Ginnastica Salerno triunfa nella prima prova del campionato italiano di ginnastica artistica. Primo successo di campionato per ginnastica Salerno che ha triunfato nella prima prova della massima competizione nazionale di ginnastica artistica. La tappa inaugurale del campionato italiano 2019 si è conclusa alla pala Yamamai di Busto Arsizio con il successo della squadra campioni d'Italia in carica. Ginnastica Salerno ha distaccato ginnastica Civitavecchia ferma al secondo podio mentre in terza posizione i patroni di casa della Propatria Bustese. Gli atleti della squadra maschile salernitana hanno dominato dal primo all'ultimo esercizio confermando le attese della vigilia. Con Nicola Bartolini primo nella classifica individuale. Ottime prestazioni nei sei esercizi corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, porteggio, parallele e sbarra. Anche per Salvatore Maresca vice campione italiano agli anelli, l'azzurro Tommaso De Vecchi, sei giovani talenti Gianmarco Di Cerbo e Carter Salcedo. Sotto la guida attenta dei tecnici D'Alel Popesco e Valerio Darino. Buona anche la prestazione della squadra femminile al suo esordio in A2 che sfiora il podio piazzandosi in quarta posizione. Dopo la tappa di Bustarsizio il campionato italiano proseguirà il 29 e 30 marzo a Padova e si concluderà con le finali del 3 e 4 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze. Sotto la guida attenta dei tecnici D'Alel Popesco e Valerio Darino